Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. In questo video faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Prima di iniziare faremo una preghiera di protezione agli angeli, all'arcangelo Michele. Puoi scegliere gruppo A, gruppo B o gruppo C, quindi ti chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere al tuo sacro cuore, ai tuoi angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per te. Bene, iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù e coscienza micaelica, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza della gioia, dell'abbondanza, della bellezza, dell'allineamento spirituale all'amore. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, adesso sceglieremo tre carte, vediamo un po' il gruppo A, cosa ci vogliono dire le carte? Allora, sei amato, preparati per una vita sentimentale, poi andremo a vedere nello specifico. Prosperità per il gruppo B. Gruppo C, celebrazione. Bene, fantastico, ci sono dei messaggi potenzianti per tutti e tre i gruppi, vediamo ora le carte dell'Arcangelo Michele, cosa ci vogliono dire? Vediamo un po'. Ecco qua, gruppo A. Resta focalizzato o focalizzata sui tuoi obiettivi. gruppo B, questa situazione è già risolta. Gruppo C, credi e fidati. Che bello, ci sono dei messaggi molto positivi. vediamo le carte degli angeli. Abbiamo il gruppo A. Non c'è niente di cui ti devi preoccupare. Gruppo B. Ecco, è caduta. L'opportunità di perdonare. Ok. Gruppo C. Eccolo qui. Nuovo partner. Quindi, praticamente, sia per il gruppo A che per il gruppo C c'è una nuova relazione in arrivo. Interessante. Quindi, è il periodo di... Con l'arrivo dell'estate nascono nuove relazioni d'amore, nuovi rapporti importanti. Quindi, celebriamo veramente. Allora, partiamo dal gruppo A. Questa è una carta molto importante. È una carta che ti sta dicendo di aprirti alla possibilità di incontrare un nuovo partner, un partner di vita. In quanto il romanticismo sta ritornando a far parte della tua vita, quindi delle tue relazioni. Quindi, è anche una carta che sta... Che serve per invogliarvi, ad aumentare la vostra autostima e anche a sentire dentro di voi che siete amabili. Quindi, è possibile per voi trovare la persona giusta. Diciamo che bisogna anche, per chi è singolo e sta cercando un nuovo partner, vorrebbe avere una nuova relazione, è importante avere pensieri potenzianti di come questa persona, cioè essere chiari come la desiderate. dovete essere molto specifici nei dettagli, che tipo di rapporto, che tipo di relazione volete vivere, come deve essere il vostro partner, in maniera tale che poi, quando lo incontrerete, lo riconoscerete. Quindi, per chi sta manifestando il partner, c'è un'energia molto... Chi sta lavorando sulla manifestazione di un partner, c'è un'energia molto favorevole a vostro favore. gli angeli e l'arcangelo Michele vi stanno dicendo di rimanere focalizzati nei vostri obiettivi. Per chi è già in una relazione, sta a significare di tenere duro, di non mollare, di credere in questo rapporto, di pregare di più, di avere fiducia che tutto andrà per il meglio, in quanto non c'è niente di cui vi dovete preoccupare. Va bene, assolutamente. Siete al sicuro. Questa situazione è in ordine con il piano divino. Va bene. Quindi cercate di mantenere i vostri pensieri positivi, i vostri pensieri potenzianti e le vostre emozioni che possano essere di pace, di amore e di serenità. Se siete un po' ansiosi, pregate di più, chiedete all'arcangelo Michele di tagliare tutte le corde di paura tra voi e tutto ciò che vi sta impedendo di essere nell'amore più grande. Va bene? Ok. Passiamo al gruppo B. Gruppo B c'è grande prosperità, le porte, abbondanza, i vostri desideri economici, i vostri sogni si stanno manifestando, maggiori entrate economiche, va bene, quindi veramente dei soldi in arrivo e anche un consiglio di gestire bene i vostri soldi, di stare attenti a non sperperarli, di investirli nel modo giusto. Diciamo che potreste decidere anche voi di concentrarvi sulla manifestazione, in questo caso manifestazione di maggiore abbondanza, in quanto l'energia della prosperità sono a vostro favore. Va bene? Quindi se siete preoccupati per una situazione in particolare, per dei problemi economici, per dei blocchi, per dei soldi che stanno arrivando ma ancora non sono arrivati, assolutamente state tranquilli, questa situazione è già risolta. Quindi prosperità alle porte, abbondanza infinita, ringraziate, fate affermazioni positive che è già avvenuto, che tutto quello che voi state chiedendo è già qui ed ora, le affermazioni positive sono potenti per manifestare la realtà dei vostri sogni, bisogna fare affermazioni positive mattina, pomeriggio, sera, possibilmente se avete il tempo tutto il giorno, bastano pochi giorni per manifestare se vi impegnate veramente, se cambiate il vostro mindset, se lasciate andare le credenze limitanti, se andate oltre le resistenze, se forzate un po' all'inizio, è come quando si va in palestra, all'inizio bisogna pedalare un po' di più, bisogna agire un po' di più, bisogna agire di più e poi piano piano andrà tutto in discesa e la manifestazione arriverà a voi. Diciamo che un altro modo per manifestare più velocemente è anche quello del perdono, cioè perdonare ci aiuta ad aprire il cuore e sentirci più degni e meritevoli di ricevere abbondanza, quindi lasciare andare il passato, lasciare andare il risentimento, lasciare andare queste emozioni basse, non vi servono, ragazzi, se volete cambiare la vostra vita, se volete manifestare la vita dei vostri sogni, cambiate frequenza, vibrate nelle frequenze della ricettività all'abbondanza, è un consiglio che gli angeli vi stanno dando, l'Arcangelo Michele è molto fermo in questo senso. Bene, passiamo al gruppo C, celebrazione, ok, assolutamente stanno arrivando dei risultati positivi nella vostra vita, celebrate il vostro successo, godetevi i vostri sogni, i vostri obiettivi, perché si stanno manifestando, quindi veramente, assolutamente, credi e fidati, perché tutto è sincronico, è perfetto, sta arrivando quello che hai chiesto, o è già arrivato, quindi ringrazia, sentiti veramente grato e felice, perché stanno arrivando cose molto positive nella tua vita, quindi veramente c'è un'energia molto positiva in linea all'abbondanza in tutte le sue forme, nelle relazioni, nel lavoro, nelle amicizie e nella vita anche romantica, quindi un nuovo partner, una nuova relazione anche per voi, la possibilità assolutamente di incontrare la persona giusta, questo incontro non è un errore, questo incontro è guidato dall'alto, quindi assolutamente, assolutamente, se avete ricevuto un invito per uscire a cena, oppure qualcuno vuole venire a trovarvi, insomma dovete incontrarvi con una persona in particolare, assolutamente, gli angeli vi stanno dicendo non è un errore, questa persona può essere assolutamente, merita la vostra fiducia, quindi apritevi alla possibilità, rimanete aperti a tutto, al meglio, no? Ok? Quindi molte, diciamo, prestate anche attenzione ad eventuali persone che sono state spedite nella vostra vita, che stanno entrando nella vostra vita, ok? Naturalmente voi riconoscerete queste persone anche attraverso un senso di familiarità, un senso di conoscervi già, assolutamente ascoltate il vostro sentire, il vostro sentire è la guida divina, fidatevi di voi stessi, fidatevi degli angeli, fidatevi dei segni, i segnali sono chiari e precisi, ascoltate i segni e seguiteli, ok? Ora, chiediamo addio all'Arcangelo Michele di dirci qual è il messaggio per questa settimana, più calma nell'esprimersi, ok? L'espressione delle proprie idee, delle proprie intenzioni, dei propri progetti, deve essere effettuata con cure d'attenzione, anche i più piccoli particolari non devono essere tralasciati, nulla deve essere dato per scontato, ok? Bene, la lettura di questa settimana si è appena conclusa, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche, sia come connessione diretta che con la lettura delle carte, mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce a distanza, di persona se vi trovate ad Alghero, facilito il coaching sia per liberarvi dai blocchi, le paure, i sistemi di credenza limitanti, sia per aiutarvi a manifestare la realtà dei vostri sogni. Presto faremo nuovi video sulla manifestazione, veramente è un periodo in cui sto lavorando tantissimo sulla manifestazione, stanno accadendo grandi miracoli e quindi io ho deciso di condividere con voi le mie scoperte, il mio lavoro, il mio grande lavoro di manifestazione, assolutamente mi occupo, scusate, assolutamente faremo questi video, volevo informarvi che la nuova classe, ok, dove insegnerò come connettersi con le nuove frequenze di luce da casa, quindi online, però dal vivo, su Zoom, lavoreremo su Zoom per nove settimane, la nuova classe è già partita il 21 giugno, però la classe di agosto, perché praticamente luglio, andrò in vacanza, andrò a visitare i luoghi sacri dell'Arcangelo Michele, magari se riuscirò farò anche un video e vi farò, vi mostrerò qualcosa, adesso vediamo se riuscirò a organizzare dei video, mi farebbe molto piacere condividere questa esperienza con voi, e comunque la nuova classe partirà o l'11, ok, l'11 agosto, venerdì 11 agosto, oppure il 25 di agosto, dipende dal numero dei partecipanti, perché l'obiettivo è quello di raggiungere 10 partecipanti, ci sono 8 posti disponibili, quindi se sei interessato, vuoi imparare questa modalità di guarigione, vuoi accedere a questo campo di luce, ti posso garantire che questo lavoro è potentissimo anche dal pc o dal cellulare e tu potrai imparare tutto per acquisire questo dono meraviglioso delle nuove frequenze di luce. Il corso invece di connessioni angeliche online sarà molto probabilmente partirà il 21 di agosto oppure la terza settimana di settembre, anche qui dipende dal fatto di riuscire a organizzare una classe, quindi se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi, se invece vuoi fare l'esperienza dal vivo in presenza, volevo informarti che il corso di guarigione di 4 giorni, 2 giorni di guarigione, 2 giorni di connessione al sé superiore partirà il 21 ottobre 2023 fino al 24 ottobre 2023. Scegli tu se partecipare al seminario di due giorni o fare il percorso completo di 4 giorni. Contattami e ti darò maggiori dettagli o guarda il mio sito internet connessioneangeliche.com Intanto io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a presto!